Prima Domenica di Avvento, inizio di un tempo liturgico straordinario, un tempo che ci conduce al Natale, ci conduce all'incontro con la persona di Gesù, un Dio che si è fatto carne. Allora, l'Avvento deve essere un tempo che non ci deve portare a futili e facili emozioni natalizie, ma un reale tempo di preparazione e di attesa all'incontro con Gesù, un Gesù che deve innanzitutto nascere nel nostro cuore e poi nel presepe, anche se il presepe è una tradizione da coltivare, da alimentare e da passare di generazione in generazione. Letteralmente, Avvento significa avvicinarsi, andare vicino, quindi un mettersi realmente in cammino verso Dio, verso se stessi e verso gli altri, per capire che se Dio si è fatto uomo, l'urgenza, la priorità di ognuno di noi è comprendere la nostra umanità e pertanto diventare poi cristiani, cristiani umani, ecco una definizione dell'Avvento di riscoperta della nostra fede. Con una metafora potremmo dire che l'Avvento è una grande tazza di caffè bollente, un caffè che deve farci vigili e svegli, proprio come ci dice Marco nel Vangelo di oggi, che per ben quattro volte, in pochissimi versetti, parla del vegliare. È inutile fingere, viviamo realmente un periodo di sonno della fede, siamo tutti travolti da mille cose da fare, da mille problemi, imprevisti e così perdiamo la bussola della nostra vita, cioè la nostra fede. Il Vangelo di oggi parla proprio di un padrone che se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, noi diventiamo artigiani di Dio, braccia dello Spirito Santo, araldi del Vangelo. La parola di Dio allora ci deve meravigliare, ci deve interrogare, ci deve stupire e non deve mai essere scontata. Dobbiamo dire basta a una vita distratta e disorientata dalle mille luci del mondo. Oggi il mondo cerca di portarci sull'efficientismo, invece il cristiano deve tornare all'essenzialismo, ritornare a Cristo, alla vita, alla verità. Oggi il Vangelo ci parla proprio di questa vigilanza, una vigilanza che ci fa comprendere che è molto importante svegliarci per svegliare, cioè guardare la nostra bellezza e guardare anche la bellezza degli altri, in modo particolare guardare anche i silenzi, le domande, gli interrogativi, i sogni, i dubbi, le paure di questo mondo e illuminarle alla luce di Cristo. Guardando la nostra salute dell'anima vedremo anche la salute dell'anima del nostro prossimo e anche il nostro prossimo al desiderio profondo di avere una vita piena, illuminata da Cristo. Siamo protagonisti dell'avvento e quindi protagonisti di questa grande sveglia, di questa grande tazza di caffè. I protagonisti dell'avvento possono essere definiti delle sentinelle, coloro che sono i primi a vedere l'alba e a comunicarla agli altri. Siamo reali messaggeri di speranza nella vita propria e nella vita degli altri. Spesso lo diciamo a delle altre persone, svegliati quando li vediamo spenti e svogliati. Il Vangelo di oggi parla chiaro, parla a noi, dice svegliamoci, iniziamo a camminare senza paura verso la luce di Cristo. L'avvento allora deve essere un vero tempo di conversione, orientarci al fondamento primario della nostra vita, ciò che non ci distrae ma che ci orienta, la persona di Cristo. Un tempo utile per accorciare le distanze con un Dio che a volte ci sembra lontano ma siamo noi che ci allontaniamo da Lui. Sono queste delle settimane dove dobbiamo risvegliare mente e cuore alla fede per non continuare ad essere senza speranza e vitalità, in un mondo che cerca di soffocare la speranza e la vitalità. Non siamo qui certamente a far finta che poi Gesù nasce. No, Gesù è già nato nella storia ma deve forse ancora nasce nel nostro cuore. Ribelliamoci a una fede esteriore e tiepida, trasmettiamo a tutti la gioia di metterci in cammino, la gioia di andare verso Betlemme, la gioia di vivere l'avvento. Allora prendiamo realmente sul serio il Vangelo di oggi. Stiamo svegli, non lasciamoci travolgere dalla follia quotidiana, diventiamo realmente cercatori di Dio, sentinelle della gioia, messaggeri di speranza e araldi della carità. Buon cammino di avvento a tutti.